Giorno 4, venerdì. Oggi iniziano i mondiali di calcio. Le cerimonie di apertura non le amo, sono quasi sempre pagliacciate, spettacoli da circo all'insegna della retorica. Figuriamoci in questa edizione, ospitata proprio in America, la nazione più esibizionista e meno pallonara del pianeta. Anche la partita d'apertura non è degna di visione. Germania-Bolivia, neanche sotto tortura. La buona notizia è che nella stanza il caldo non è aumentato. La cattiva, che non è nemmeno diminuito. Pino, dopo il rito della colazione, si è messo a cambiare le lenzuola, in verità ce lo aveva promesso per ieri, dopo pranzo, ma è stato meglio così. Con la sudata che abbiamo fatto stanotte sarebbe stato inutile. Mentre, tra fatica e imprecazioni, sistemava all'ennesimo letto, ero lì lì per fargli una battuta, più o meno di questo tenore. Su, Pino, su, non è così faticoso. Oppure, il letto mio lo devi rifare, ti è venuto uno schifo. Ma l'ennesima bestemmia sottovoce mi ha fatto capire che non era il caso. Dopo sei letti cambiati, Pino è sudato da fare spavento. La maglia bianca è carta velina fradicia sulla pancia prorompente. Mentre si asciuga il viso con un rotolo di scottex, preso dal mio comodino senza chiedere il permesso, mi si avvicina. Senti un po', a Meggera che dice? Il luccichio che gli vedo negli occhi non lascia margine di dubbio. La versione più vicina alla verità che queste orecchie abbiano accolto è quella di Rossana. Ma chi è sto de te? Pino scatta come una molla, mi prende per il braccio. E che t'ha detto? Lo guardo in tutta la sua poca avvenenza. Le mie parole devono saper conciliare verità e gentilezza. E che m'ha detto? Lo sa che tu parli male di lei. Per lei c'è un motivo preciso, però, diciamo così. Mi scruta neanche fossi un animale esotico mai visto. Motivo? Che quando siete entrati a lavorare qui, tu eri innamorato, ma lei... E con la mano compie un gesto difficilmente equivocabile. Pino, già colorito per le lenzuola cambiate e il caldo asfissiante, diventa ancora più paonazzo. Mi piaceva lei. A me. Ma se era lei che me sbavava dietro? Né lui né tantomeno io crediamo alle sue parole. Non avendo altri argomenti a propria difesa, Pino sceglie la fuga composta a passi lenti, ma di questo si tratta. Nella stanza ci sono anche Mario e Alessandro. Madonnina è alla deriva per il corridoio, con il pannolone fresco di cambio. Gianluca e Giorgio non saprei, forse a vedere la tv. Vado da Mario e la sua finestra. Oltre al piacere di stare ad ascoltarlo, spero in un minimo di vento da godere. Le grida ci colgono facendoci saltare entrambi. A questa intensità, questo strazio, non erano mai arrivate. Vengono dai cattivi, dico. Vediamo Pino andare a passo svelto verso la porta che divide noi da loro. Anche Mario è rapito dalle grida. È un uomo incapace di estragnarsi da ciò che lo circonda, dal bene quanto dal male. Tu credi che dall'altra parte ci siano veramente i cattivi? Quindi pazienti peggiori di noi? Non ho mai messo in dubbio quanto detto da medici e infermieri, e le grida come i lamenti me lo hanno ribadito giorno dopo giorno. Perché mi dici così? Che c'è allora? Mario mi fa l'occhiolino. Ho promesso a Mancino di non dirlo, ma tu sei un ragazzo sveglio. Ora scusami. Mario si dirige verso il bagno. Nella stanza mi ritrovo da solo, da solo a parte Alessandro, sempre puntato verso il suo bersaglio sopra il mio letto. Mi avvicino a lui, mi siedo dove di solito si siede il padre, resto così, a guardarlo. Di vivo gli rimane solo il battito degli occhi e il respiro. Un sortilegio sembra essersi abbattuto su di lui. Ma la faccenda del muro storto che il padre racconta a tutti, e che secondo lui è la causa della malattia, in realtà è stata al massimo la scintilla. La fiamma, Alessandro se la portava dentro, all'ombra della sua mente, pronta a mangiarselo. Lentamente scosto il lenzuolo, ecco il braccio dove il padre, una volta al giorno, prova a riaccenderlo, a farlo ripartire. Una zona dell'avambraccio è violacea, ha decine come stelle nel cielo, rossi di pelle stritolata, ecco i pizzichi, uno dopo l'altro, giorno dopo giorno, tutti ugualmente inutili. Non mi permetto di allungare la lista di tentativi, ma capisco la rabbia del padre, i suoi interrogativi su quella malattia così simile a una morte in vita. Mi avvicino al suo orecchio. Alessandro? Alessà? Alle parole faccio seguire un gesto, la mia mano sulla sua spalla, lo scuoto, provo a svegliarlo, a spezzare il sortilegio, magari qualcuno di nuovo, un viso che non conosce, può riuscire laddove nessun altro è arrivato. Anche il mio, come ogni altro tentativo sin qui fatto, finisce nel vuoto dei suoi occhi. Gianluca e Giorgio rientrano in stanza, sembrano due ragazzini pronti a una giornata di scorribande. Oh, sembratesi a mesi, state sempre attaccati. Giorgio beve da una cannuccia un succo di frutta, ha ascoltato la mia battuta senza mostrare espressione alcuna. Sei geloso? Me lo guardo per bene, poi capisco che la sua domanda è serissima. No, che geloso, anzi, mi fa piacere che siete diventati amici. Gianluca ha seguito il breve scambio con godimento crescente, sentirsi oggetto di gelosia e lo fa felice in modo assoluto, estasiato. Si mette sul letto e accavalla le gambe al colmo della gioia. Buongiorno, una voce anziana, femminile, irrompe nella stanza. Gianluca si ricompone immediatamente. La signora, non meno di 75 anni, si ferma davanti alla testata del suo letto. Ciao, ma... Gianluca si tocca nervosamente il riporto rossiccio. La madre ha capelli gonfi di lacca e biondo platino. Dal trucco inappuntabile allo smalto rosso sulle unghie, ci tiene a farsi vedere in ordine, precisa se non perfetta, malgrado tutto di lei parli delle sue origini modeste, la povertà attentamente occultata. I vestiti, le scarpe, la borsa. La madre resta lì, impettita, ai piedi del figlio. Se sei fatto riconosce pure qua. Ci sei riuscito? Gianluca annaspa, cerca aria con la bocca, ci guarda pieno di vergogna, umiliato. Ma qui me vanno tutti bene. Dicono che la malattia è in regressione, che dopo sta settimana obbligatoria potrò tornare a casa. Ma davvero, fattelo di pure da loro. Andiamo d'accordo, vero? Tutta la stanza, neanche fosse composta da un branco di bestie ammaestrate, annuisce all'unisono. Tranne Alessandro, ovviamente. Lei non sembra rassicurata, nemmeno feroce di prima. Ancora non hai fatto il porco con nessuno? Eh? Gianluca si guarda le unghie mangiate e smaltate, non prova più a rispondere. La madre si volta un secondo verso di noi, ci scruta, si ferma sulla maglietta indossata da Giorgio, poi si gira di nuovo verso il figlio, con violenza. Ma sta maglietta non è la tua? Ti sei messa a regalarle cose? E chi t'ha data il permesso? Ma sta grossa! Lui non c'aveva il cambio e gliel'ho prestata, vero Joe? Giorgio muove il testone in segno d'assenso, ma lei nemmeno lo degna di uno sguardo. La ragazza che vive dentro Gianluca soffre da far piangere. È schiantata, schiacciata dal peso disumano della madre. T'ho portato un cambio pulito, damme le cose sporche che vado. Gianluca schizza dal letto. L'idea che quella punizione pubblica stia volgendo alla fine lo ha reso istantaneamente frenetico. Dal suo armadietto tira fuori una busta di plastica, la passa alla madre. Grazie ma... Le dà due baci sulle guance. Lei si gira verso di noi, si produce in un sorriso larghissimo, incomprensibile dopo le parole spese per il figlio con noi testimoni imbarazzati. Arrivederci a tutti! Si avvia col suo passo anziano verso la porta. La varca sparisce. Devo sedermi sul letto. Bevo dalla bottiglia, tutto pur di non guardare Gianluca e la sua sofferenza. Anche gli altri tornano nei rispettivi spazi. Sta stronza. È lui che ci richiama a sé. Provo a immaginare il loro passato, cosa lo abbia determinato, scatenato, quali le cause, i torti, le giustificazioni. Ma qui non c'entra la ragione dell'uno o dell'altro. Qui dentro la ragione va in pasto ai cani. Una cosa però la so perché la vedo e riguarda il presente. Quello che la madre ha prodotto sul figlio, sul suo viso sconvolto, le lacrime miste al nero di chissà quale trucco. Per quanto doloroso, imperdonabile, non esiste passato che possa tollerare un presente simile, dato con la frusta, da madre a figlio. E lei fa tutto parte della malattia. Tutto. Pur il fatto che soffrocio. È perché son malato. È che io posso amare una persona? No. Perché è la malattia? È che io posso sperare qualcosa? No. Perché è malattia pure sperare. Malattia. Gianluca ha gli occhi allucinati. Ormai parla a sé stesso. Io, oltre, non riesco ad andare. Il corridoio è invaso dal profumo della madre di Gianluca. Non so se sia questo involontario indizio a rendere tutto evidente, lampante. Di fronte a me ho la porta a vetri dei cattivi. Che stupido. Ecco perché Mario ha fatto riferimento al ragazzo sveglio, cosa che evidentemente non sono stato sino a un secondo fa. Mi metto a cercare Pino. Lo ritrovo affacciato alla finestra della sala TV, nel tentativo, vano, di prendere un poco di fresco, quella bava di vento che di tanto in tanto arriva. Vorrebbe non farsi vedere, ma non c'è riuscito. Stava fumando una sigaretta. la spenta rapidamente sul muro esterno accanto alla finestra. Che c'è? Continua a guardare fuori. Sembra immalinconito, magari sbaglio, ma secondo me il motivo del suo umore è piantato indietro nel tempo e risponde al nome di Rossana. Però stavolta mi devi di la verità. Ormai mi conosci. Sono ragazzo per bene, non creo guai. Dall'altra parte, non ci so ai cattivi, vero? Certo che ci so ai cattivi. Uno soprattutto è una bestia. Lo fisso, la mia espressione smonta la sua voglia di continuare la recita. Torna a guardare verso l'orizzonte. Anche oggi, mare e terra sono confusi dall'afa imperante. Ci stanno le donne, vero? Non mi risponde. E perché ve siete dovuti inventare sta cazzata? Lui scrolla il capo. Lo sguardo che mi assesta è doloroso. Ennesima prova che dalla vita ancora non ci ha capito un cazzo. Quando il reparto era tutto aperto, o sai quante volte siamo dovuti correre nei bagni? O sai quante ne avemo trovati che si ingroppavano? Incastrati l'uno dentro l'altro. Fino a quando una ragazza non è rimasta incinta, qui dentro, l'un altro matto che poi si è buttato dal ponte d'Ariccia. Così il primario si è inventato sta cosa. Tanti scoprono che è una cazzata, come te. Ma quando lo scoprono è quasi ora che se li siamo levati dai coglioni. Pino vorrebbe continuare a incenerirmi, però si rende conto che tutta la storia non mi ha lasciato indifferente. Te sei un ragazzo. Cercate non finisce più qui dentro. Questo è un girone infernale, ma mica solo per voi matti. Qua chiunque ce capita ci resta imprigionato. Mi dà una pacca sulla spalla e si avvia lungo il corridoio. Ora sono io a stare alla finestra, solo. Questo contenitore di malattie e disperazione, di follia lucidissima, ha partorito un figlio. Un bambino concepito dentro un girone infernale, per usare le parole di Pino. Cercò di cogliere nel cielo sbiancato dall'afa possibili lineamenti, il profilo forse adolescente. Un figlio nato da madre instabile e padre suicida viaggia per il mondo. Un principe, un messia, un futuro uomo capace di tutto. Perché è troppo facile, perché non me lo posso permettere, qui, ora, di immaginarmelo disadattato, emarginato, fedele al sangue che lo ha generato. No. In lui la somma dei mali si è trasformata in bene supremo, in bellezza, equilibrio, futuro degno di questo nome. Lo vedo tra mille ragazze, più forte di ogni chiacchiera infame, di ogni pregiudizio. Vai. Onora il padre e la madre. Dimostra all'umanità intera che dagli ultimi, i reietti, nascono miracoli come te. Resisto alla commozione, ma la visione cambia rapidamente. Oscura il cielo. Il pianto copre la terra. Eccolo. Mai nato. Un errore generato dalla pazzia. Intollerabile. Vita che non merita di vivere. Perché da due malati altro non può nascere che male maggiore. Una stanchezza improvvisa si mischia alle lacrime. Il reparto sta al secondo piano, al massimo saranno otto metri. Potrei aggrapparmi alla finestra, i metri diventerebbero di meno. Forse, gettandomi bene, non mi farei neanche così male. Sento il clic elettrico della porta del reparto, poi rumore di ruote. Questo è il carrello con il pranzo, trascinato stancamente da Pino. Non riesco a decidere se la mancanza di un orologio sia un bene o un male. Nella stanza nessuno di noi ne ha uno. Di certo la noia, scandita dalle lancette, sarebbe in alcuni momenti aumentata a dismisura, come le ore scolastiche passate al banco, ma non avere mai certezza dell'ora è snervante. Ti affidi al sole, inchiodato in alto nel cielo, dentro giornate infinite come sanno essere quelle estive. Alla fine, a scandire il mio tempo, è lo scarno elenco di attività che si possono fare qui dentro. Oggi, almeno, una di esse è attesa con giusta trepidazione. A breve mi dovrebbe vedere Cimaroli. Sul comodino, piegato con ordine millimetrico, c'è il foglio con la mia poesia. Durante la seduta gliela voglio leggere. La trepidazione è presto spiegata. Il suo giudizio, come quello di qualsiasi altro essere vivente, mi interessa molto. Quando entro nello studio medico, sono molto emozionato. Prima, però, c'è ben altro da chiedere. Mi ha tolto il farganasse. Io soffro di insonnia. Con il caldo e tutto il resto faccio molta fatica. Cimaroli ha aperto davanti a sé la mia cartellina. Mi dispiace, ma tu sei un soggetto a rischio. Con i tuoi disturbi hai molte possibilità di sviluppare dipendenze, non solo con la droga, ma anche con i sonniferi, l'alcol. Ci devi stare attento. Che rispondere? È lui a continuare. Mi dispiace per ieri, ma sono rimasto bloccato quattro ore al pronto soccorso. Com'è andata con Mancino? Mi metto, come al solito, con i medici, a rintracciare parole di compromesso, poi ci ripenso. Male. Sono sincero, non mi piace come dottore. Mi sembra arrogante e disinteressato. Cimaroli si irrigidisce, tenta di smorzare le mie parole con un sorriso, ma non gli riesce granché. Mancino è un po' un orso, ma credimi, è un bravo medico. Anche in questo caso non so che rispondere. Non saprei decifrare il suo imbarazzo. Forse anche lui pensa che sia solo un cinico ignorante, o magari il fastidio è nei miei confronti, per aver messo in discussione la professionalità del suo collega. Veniamo a noi. Avevo ancora una cosa da chiederti sul consumo di stupefacenti. A che età hai iniziato? Con che cosa? A 13 anni mi sono intossicato con un barattolo di vernice caduto dentro casa. Lì ho scoperto che certe sostanze hanno effetti sulla mente e ho iniziato, come dire, a sperimentare. Mi sono fermato alla lacca di mia madre, la spruzzavo nel tappo e respiravo. Una volta mi hanno trovato semi svenuto in bagno. Cimaroli trascrive con meticolosità. Io, in imperdonabile ritardo, mi interrogo su tutta la situazione. Perché sto raccontando? Perché questa disponibilità a dire di me, ad aprirmi, a parlare così tranquillamente delle mie abitudini, anche quando rientrano a pieno titolo nella schiera dei reati? Questi mi marchieranno a fuoco per tutti gli anni a venire. Ancora una volta mi ritrovo la faccia di Pino davanti agli occhi. Ho vent'anni. Della vita non ci ho ancora capito un cazzo. Cimaroli ha finito di scrivere. Ora mi guarda. Ma voi, con la cartella mia, con la patologia che mi darete alla fine del TSO, che ci fate? La mandate anche al tribunale? Che succede dopo? Stai tranquillo. A Velletri mandiamo soltanto la comunicazione di fine trattamento e ovviamente se si sono commessi reati qui dentro. Ma sul discorso patologie come sul consumo di droghe non diciamo niente. Questo non vuol dire che quello che stiamo facendo lo buttiamo nel cestino. Metteremo una diagnosi, ti daremo una cura, comunicheremo anche al tuo comune la fine del trattamento e la richiesta di presa in carico al servizio sanitario. L'idea che questo trattamento produca effetti che riguarderanno il mio futuro mi irritano un poco. Un'assistente sociale per fare cosa? Perché? Ma Cimaroli non coglie i miei pensieri. L'altro giorno abbiamo parlato dell'umore. Ti senti mai molto triste? Al punto da fare pensieri brutti. Di suicidio. Molto triste spesso. Pensieri di suicidio raramente, a parte la serata per questo qui. Sulla tristezza mi capita una cosa strana. Devo trovare bene le parole. Lui annuisce. Si mette in attesa. Oggi il dottore porta una t-shirt della Ralph Lauren, riconosco il cavallino, blu scura. Non ha un collo particolarmente lungo e questo tipo di maglie non sembrano essere le più giuste per lui. Senz'altro meglio le polo. È come se fossi scisso. Se fossi due persone in una. Quando sto in compagnia sono un amicone, mi piace ridere, riesco a tenere a bada la tristezza, la malinconia. Ma quando sto da solo... Non ho più voglia di parlare. Pensare ai mostri che escono fuori dalla mia solitudine ha ammazzato la poca energia sopravvissuta al caldo. Quando stai da solo... Cimaroli, la penna a mezz'aria, aspetta la conclusione della frase. Quando sto da solo me semagnano vivo. Hai mai intrapreso un percorso di psicoterapia? Almeno tre volte. Non so perché mi sembrava una recita. Uno che racconta se stesso mi sembra troppo facile. Oddio non di quello che vuole o forse non so adatto io. La stanchezza, mischiata a un senso di profonda rassegnazione, non mi permette di controllare il dettato. Parlare in italiano costa fatica. Mi risolleva il pensiero della poesia che a breve leggerò. Cimaroli sarà il terzo essere umano a sentire le mie parole. Con tua madre come va, invece? Mi avevi accennato della morte di tua nonna che l'ha messa un po' in crisi. Un vago senso di stordimento. Come non sapere più chi sia veramente, da dove si viene. In realtà mia nonna è morta nell'84, io avevo dieci anni. Mamma, c'è stata male, però adesso... Cimaroli si porta una mano sulla fronte sudata. Perdonami, t'ho confuso con un altro ragazzo. Difrascati, tu sei Mencarelli. Si tuffa nelle pagine scritte. Cerca di ritrovarmi lì. Tu sei... legge velocemente, riga dopo riga. Certo! Quello delle poesie, giusto? Mi sorride. Gli occhi gli vanno al foglio ripiegato. Bravo, me l'hai portata! Istintivamente mi viene da nascondere il foglietto dietro la schiena. Sì, ma ci sto lavorando, non sono ancora sicuro. Va bene, come vuoi. Non si accorge della menzogna, non si accorge di nulla, nemmeno della mia delusione, degli occhi incapaci di nascondere l'offesa. Anche per lui, come per il suo collega Mancino, non sono un caso clinico di interesse, meno che mai un ragazzo degno di entrare nella sua memoria con nome e cognome, un viso. Per lui sono un modesto meccanismo da rimettere in sesto, un meccanismo di fabbrica, di quelli commerciali, sfornati un poco storti dalla catena di produzione. In stanza ci sono tutti, a parte Giorgio, in visita da Cimaroli dopo di me. Getto il foglio sul comodino e mi lancio sul letto. Mi abbraccio il cuscino e resto così, stretto al niente, con una voglia mostruosa di andare via da me stesso, dimenticarmi di tutto. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» Non mi smuove neanche Madonnina. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» È in piedi tra il mio e il suo letto. Pino gli ha rimesso il pantalone del pigiama, sotto, ben evidente, la protuberanza del pannolone. Alzo la testa verso di lui. «Che c'è, madonnina? Che hai fatto?» Silenzio. Il solito sguardo in direzione del nulla. «Mario, che faccio?» «Chiamo Pino. Secondo te che vuole?» Mario fa spallucce. Mi giro verso Gianluca, anche lui allarga le braccia. Mi alzo dal letto, lo prendo sotto braccio. «Vuoi camminare un po'?» La domanda ovviamente cade nel vuoto. Arrivati al corridoio, gli lascio il braccio. Madonnina sarà alto più o meno come me, ma peserà venti chili di meno. Dal colorito olivastro al nero della barba e dei capelli diradati, mi dà l'idea di essere del sud. Il pigiama marroncino che porta, l'unico indumento che abbia, ha buchi sui gomiti, il colletto illiso, in molti punti sfrangiato. Però è di buona marca e fattura. Chissà, magari Madonnina è figlio di buona famiglia, forse lo stanno cercando in qualche remota terra del meridione. Ecco perché nessuno viene mai a trovarlo. Ma come rintracciare una persona che non è in grado di rivelare in nessun modo la propria identità? O forse, più probabilmente, non c'è nessuna famiglia ricca del sud a cercarlo. Il pigiama di buona marca e fattura altro non è che uno scarto consumato, finito addosso a lui attraverso la carità di qualche buonanima. Ho tempo da perdere. Di ipotesi posso riempire le ore, ma un dato resta insindacabile. Perché nessuno viene a trovare Madonnina? Possibile che non ci sia sulla faccia della terra un uomo che si porti nelle vene il suo stesso sangue. Uno. Uno solo che ne reclami il bene e che gliene voglia dare anche solo un'ora a settimana. Lo lascio lì, in mezzo al corridoio, chiuso dentro il suo mondo. Mario e Gianluca, dai loro letti, hanno osservato. Ora sono io ad allargare le braccia, a mostrare l'inutilità del mio operato. Ma che altro fare? Dal comodino riprendo la poesia gettata in malo modo, apro il foglio, inizio a leggermela nella mente. A me sembra bella. Cos'è? Mario, dal suo recinto magico, ha visto tutto. Ripiego di fretta il foglio, lo ripongo sul comodino. Niente. Cioè, ogni tanto scrivo. Poesia. Davvero? Mario stenta a crederci. Io annuisco. Le leggo a mia madre, volevo leggerla pure a Cimaroli, ma alla fine ho preferito di no. Anche a me piace la poesia. Moltissimo, a scuola ne leggevo tante ai miei alunni. Je anotre. Le ultime parole sono in francese, almeno credo. Poi mi guarda aspettandosi non so cosa. Io è un altro. Non conosci, Rimbaud? Un saison en enfer? Una stagione all'inferno? Ho letto Baudelaire, I fiori del male, ma Rimbaud ancora no. Lo devi leggere assolutamente. Sono convinto che ti piacerà. Di più. Diventerete fratelli, sono sicuro. Che poeti ti piacciono? Quali conosci? Io non faccio lettere, leggo poesia per conto mio. Conosco bellezza, sahaba, mi piace la poesia onesta. Anche a me piace scrivere così, anche perché se no mia madre non le capisce. E poi con le parole si deve arrivare all'osso, ci si deve spogliare. Invece tanti poeti, mi pare, ci si vestono, ci si nascondono dietro. Caproni lo conosci? No. Mi piacerà molto anche lui. I miei alunni lo amavano tanto, proprio perché non ha bisogno di mischiare troppo le cose. Nell'apparente semplicità, sa dire tutto quello che appartiene all'essere umano. A noi. Grazie. Perché non leggi quella che hai scritto te? Per la vergogna mi sento il viso andare in fiamme, tiro indietro i capelli bagnati di sudore. No, meglio di no. Perché? Mario, casto, domanda senza capire. Lo guardo, poi cedo. Mi vergogno. De noi, Daniele? Eggi a Luca a rispondere stranamente serio. Qui nessuno giudica nessuno, pure perché se no ci staremmo una trentina d'anni qui dentro. Malgrado il fiato grosso, il cuore accelerato, mi lancio. Va bene. Non ho mai letto a più di una persona per volta. Schiarisco la voce. È ora di buttarsi, come i miei amici, dalla cabina del Papa. Sei sempre tu che vieni a riprendermi. Ne è piena la memoria di te che spunti e mi porti via. Alle scuole tutti i malori li fingevo per vedere il tuo arrivo. Fino a oggi dove niente si finge, ed è vero il male che mi spezza, e quanto più è atroce aspettarti passato dai banchi a questo bianco lettino. Non guardo nessuno, ripiego il foglio. Non è stata una buona idea leggere la poesia. Il ricordo di mia madre e la sua assenza mi hanno fatto sprofondare nella nostalgia di lei, della mia casa. È bella, veramente. Mario ha gli occhi lucidi, sta con il capo leggermente piegato da una parte. Sembra volermi guardare da una diversa angolazione. Grazie, Daniele. Per l'emozione non riesco a stare fermo. Mi gratto la testa, sudo, poi cerco di restituire tutta la gratitudine che mi sta dimostrando. Grazie a te, ma... Se senter bene che vuoi a tua madre. Bella. Gianluca si accoda i complimenti con ben altro peso negli occhi. Sembra assorto dietro chissà quale parto della mente, ma non ci vuole particolare sensibilità per immaginare il soggetto che si agita dietro tutto. Io sono solo un appassionato, ma secondo me dovresti farle leggere a qualcuno che ti possa aiutare. Mario non lo sa, ma sta parlando del mio più grande cruccio. La foga mi fa alzare dal letto. Ci ho provato. Io vorrei solamente sapere se quello che scrivo vale qualcosa. Invece in giro trovi tutti i furbi che ci vogliono guadagnare. Ti dicono sei bravo, ti facciamo il libro e gli dai tre milioni per un libro che non guarderà mai nessuno. Si chiama Editoria a pagamento. Ma non può funzionare così. Un libro è una cosa seria. È come fa scala una montagna a uno che non è stato mai nemmeno in collina. Dalla stanza dei medici fa ritorno Giorgio. De che parlate? De poesia. Gianluca gli risponde dandosi un'aria colta, profonda. Lui lo guarda con faccia schifata. Non mi piace. A me mi piacciono i cartoni e i giornaletti zozzi. La risata è di tutti. A me, in gola, è rimasto il ricordo di mia madre. Pronto. So io. Tuo padre mi ha detto dei capelli. È una sciocchezza. Stanno già a ricresce. Fosse quello. Perché? Invece che è? Una palude. D'ora in avanti devo ponderare ogni parola per non finire ingoiato dall'ansia di mia madre. Niente. Che è? Niente. Va tutto bene. Ho detto fosse quello così. Per modo di di. Ci sarebbe questo che ti ha dato fuoco ai capelli? Nella voce rintraccio perfettamente la sua parte animale. A sangue caldo. Un mammifero di sesso femminile a cui hanno toccato un cucciolo in allerta pronta ad attaccare pur di difendere. Ancora. Se ti dico niente è niente. Sta tranquilla. Ma l'hai detto a qualcuno? Non è che questo ce riprova? È uno che non sta bene parecchio. Secondo me nemmeno si è reso conto. Ma non è cattivo. I capelli che mi ha bruciato sono la cosa meno dolorosa. Perché ti ha fatto qualcos'altro? Ora nella palude mi vedo sprofondato sino alla vita. Mamma non parlo del dolore fisico. Mi spieghi meglio per favore. Non mi stai a far capire niente. Ma ancora non hai capito. Parlo del solito. Qui dentro mi faccio male a guardà. C'è una sofferenza che non pensavo esistesse. Io rispetto a loro c'ho voi. Loro hanno solo la malattia. Mentre parlo rivedo uno a uno i miei compagni di stanza. La solitudine il disagio sociale. Anni e anni di lotta contro il proprio male. Spesso anche contro quelli accorsi in aiuto e peggiori del male stesso. Tutte cose che conoscevo per sentito dire. Ecco perché ti serve questa esperienza. C'hai vent'anni sei ancora un ragazzino. Tu puoi ancora tutto. Sì è vero. Essere nella condizione di cambiare mi piacerebbe. Ma non posso sostituire gli occhi. Non posso negare alla mia natura di fare il suo corso. Chi può togliermi la sofferenza? Quale compito devo svolgere per non sentire più il dolore degli altri? Sarà la maturità il diventare adulto a dare durezza alla mia pelle? Solo questo posso sperare. Anche se a guardare i miei compagni di stanza alcuni con molti più anni dei miei è la preoccupazione a prevalere. Su di loro il tempo non ha fatto crescere nessuna scorza. Ci sentiamo domani sta attento mi raccomando. Saluta papà. La cerimonia d'apertura dei mondiali americani è una pagliacciata di primordine. Peggio di come me l'ero immaginata. Schiere di uomini e donne strette in costumi improbabili. Diana Ross obbligata a correre e a cantare contemporaneamente. A tirare quella specie di calcio di rigore. Il tutto per dare vita a una scenetta che nemmeno Benny Hill. Mamma mia. Non ho come molti miei amici un'antipatia dichiarata verso l'America. Ma lì c'entra la politica tanto da destra quanto da sinistra. L'ideologia in sé nel suo presumere la realtà come qualcosa di statico nelle sue certezze incrollabili è quanto di più lontano dalla mia natura. Lo dico a ragion veduta dopo aver toccato con mano e lo dice la mia storia quello che ho fatto sin qui. Ho vent'anni. A diciassette ho dichiarato guerra alla vita. È cominciato tutto con un viaggio o un ritorno a casa da misano adriatico a piedi per mezza Italia solo e senza un soldo. All'insoddisfazione ho avvicinato mille soluzioni possibili. Non ho chiuso la porta a nessuna esperienza per quanto stravagante. Mi sono cercato dappertutto dentro sedi di partito chiese luoghi destinati a ogni sorta di depravazione. Ho provato ad aprire porte invisibili e per farlo mi sono fatto aiutare da ogni droga lecita e illecita. Ci sono stati momenti di appagamento ma poi tutto è scappato via e io dietro all'inseguimento. In questa corsa sfrenata che mi ritrovo a compiere dietro una preda sconosciuta con buona probabilità inesistente ho incrociato uomini inchiodati alla loro versione dei fatti. Ho conosciuto vecchi vivere dentro un tempo passato morto loro e la foto in bianco e nero di Mussolini tenuta nel portafogli come reliquia da onorare col pianto offerta agli occhi altrui come soluzione di ogni male di questo paese del mondo intero. Ho visto tanti ragazzi miei coetanei vivere anche loro in un tempo passato morto a idolatrare guerriglieri disegnati sulle pareti dei centri sociali a venerare teorie economiche come testi sacri a credere ciecamente che tutto cambierà grazie all'odio verso il potere e chi lo rappresenta il disordine come soluzione finale. Io ho creduto a tutto poi ho rinnegato mi sono ferito con tutta la vita che potevo per giungere qui ora con una sola certezza da difendere tutto quello che ho vissuto tanto o poco che sia non è la preda che cerco. La cerimonia continua a dar spettacolo un fuoco pirotecnico dietro l'altro ma io ho finito i biscotti il motivo reale che mi ha portato nella saletta della televisione in stanza l'odore della cena degli altri era insopportabile tanto forte da impedirmi di mangiare con la soddisfazione che si merita la pietanza colpevole del proprio profumo era un petto di pollo alla griglia all'apparenza innocuo accompagnato da zucchine bollite oggi a sentire il meteo dovrebbe essere l'ultimo giorno dell'ondata di caldo record lo spero vivamente nella stanza come una musica soffusa appena percettibile iniziano a rialzarsi gli odori una melodia che lascerei volentieri a qualcun altro rossana mentre ritira i resti della cena sembra particolarmente stanca e il suo turno è appena cominciato tutto bene? lei non si aspettava la mia domanda bene è una parola grossa resta sul vago ma il bisogno di parlare riguarda tutti sani come matti oggi sono stata quattro ore in fila all'imps perché mio marito ha un'invalidità rivedibile ogni due anni rivedibile di cosa? forse se passa Cristo e fa un miracolo ogni due anni devono rivedere tutto per l'invalidità definitiva ci vorrà ancora tempo aiutano per la discesa rivendo a lei una battuta che migliaia di volte ho sentito uscire dalla bocca di mio padre e mia madre quando nient'altro si può dire al proprio interlocutore di fronte alle sue ragioni negate dal nemico di turno lei chiude il discorso con un sorriso il ritratto della mestizia come me sta? Gianluca rivolto a me e Giorgio si mostra con una specie di fularda ai colori sgargianti messo a mo' di canottiera annodato dietro al collo strettissimo sulla pancia e il petto bello Giorgio risponde per primo reputo finita la questione ma Gianluca indicandomi con il mento pretende anche la mia opinione stai bene solo non c'hai caldo così tutto fasciato Gianluca mi guarda con indulgenza materna come caldo? ma è un fular è un pelo leggero leggero mi son messa così proprio per sta fresca o sapete mo' se stavo fuori che facevo? ora è Giorgio a pretendere risposta che facevi? un ghiacciolo alla marena buono fresco l'invito all'immaginazione e ai desideri non può essere ignorato mi tiro su poggio la schiena alla testa del letto io se stessi fuori me ne andrei in qualche locale una bella birra fresca poi verso mezzanotte un cornetto al gelato e chi mi ammazzerebbe? Gianluca si sente sfidato si alza dal letto ci guarda quasi con pena il ghiacciolo alla marena il cornetto al gelato che tristezza io me ne andrei al centro di Roma a passeggio poi a ballare l'alibi a cercare l'uomo della vita mia Gianlu noi parlavamo di cose per staffreschi tu vai subito a sbattere quello che sai a Daniette credo dove la sbatte se no? anzi hai detto bene vado proprio indome se sbatteno alla sua battuta è lui a ridere più convinto di tutti invece eccoce qui dentro un forno senza nemmeno possibilità da inghiacciolo Giorgio incredibilmente lucido ha trovato le parole migliori per toglierci anche il gusto di fantasticare sss Mario sino a ora assente dal nostro chiacchiericcio ci guarda uno per uno poi ci invita nel suo angolo immagino voglia farci vedere qualcosa che riguardi il suo amico uccellino invece allunga il braccio verso l'orizzonte ci invita a guardare in quella direzione il sole ora è basso stanco dopo aver dominato per ore l'aria bollente trasporta i colori del tramonto accende ogni cosa di rosso e arancio non c'è breciolo di materia di fronte a noi che non sia conquistato dalla fine di questo giorno di fuoco laggiù sospesa fra cielo e mare anche lei irradiata dal sole calante un'enorme nave da crociera malgrado l'afa si riesce a vedere perfettamente grazie anche alle luci accese che la contornano e decorano file su file di luci dal ponte di comando sino alla poppa e alla proa altre orizzontali a delimitare i diversi piani delle cabine un enorme presepe in navigazione diretto verso il sole oramai sul punto di calare dietro la linea del mare sentite mario mario porta una mano all'orecchio ci invita a fare lo stesso nel salone ristorante il comandante sta per prendere la parola ha due baffi lunghissimi grandi sopracciglia bianche la sala è gremita eccolo è un onore per me ospitare sulla mia nave tre celebrità di questo calibro eccellenze conosciute in tutto il mondo fategli un bel applauso voi lo sentite l'applauso Gianluca Giorgio e io ci guardiamo sospesi indecisi se a secondare o meno mario e il suo sogno occhi aperti alla fine annoiamo il comandante ha alzato le braccia per far terminare l'applauso signore e signori un po' di calma lasciate che vi presenti uno a uno i nostri ospiti d'eccezione la prima la grande stilista amata dal jet set internazionale la donna desiderata dagli uomini di mezzo mondo lei la diva delle dive Gianluca lui chiamato in causa supera il primo momento di incertezza un inchino poi inizia a salutare i tanti accorsi nella sala ristorante anche i marinai accalcati uno sull'altro pur di vederla Gianluca conclude i ringraziamenti con una serie di baci soffiati sul palmo della mano destinati ai tavoli più distanti ora è il turno dell'uomo dalla forza sovrumana il titano capace di piegare l'acciaio l'eroe salvatore di bambini la nostra arma contro i cattivi del mondo sì proprio lui Giorgio la vergogna in ogni angolo del viso un gigante d'emozione Giorgio saluta la folla in delirio una ragazza innamorata prova ad abbracciarlo lui dispensa baci a tutti e carezzi ai più piccini alza le braccia poderose al cielo in segno di vittoria il comandante della nave tenta di placare gli animi si gira verso di me infine l'uomo dalle suole di vento il poeta che racconterà di questa e di mille altre avventure il cantore di ogni pena e amore che il suo grande cuore gli darà in pasto proprio lui Daniele la gioia dura da trattenere poi un inchino profondo grazie ripetuto all'infinito uno per ognuna delle centinaia di persone in piedi solo per me guardo il comandante della nave è il momento di farsi attori della gratitudine a fatica calmo la platea eccitata credo sia giusto ringraziare il comandante di questa nave Mario l'uomo che ci ha condotto sino al sole sempre con il sorriso sulle labbra pronto a dispensare saggezza con l'umiltà degna dei migliori a lui l'applauso più grande Mario non si aspettava questo rovesciamento di ruoli si impegna nel più bel saluto militare che questi occhi abbiano mai visto la sala esplode in tripudio Daniele Daniele si è sveglio è Giorgio proprio quando il sonno stava per venire gli altri dormono tutti sì che so sveglio che c'è non so se è pette tutta la storia della nave boh comunque silenzio attorno respiri profondi beati dormienti ah giò mi vuoi dire che c'è c'ho lì incubi e che te posso fa t'andrebbe detenemme la mano accendo la luce sopra il letto ve lo guardo nella speranza sia uno scherzo fuori tempo massimo ma che sta a dire dai mi tieni la mano tanto ci metto poco a dormire ma stiamo pure lontani non vedi lui per tutta risposta si alza in piedi prende di peso il mio comodino e lo tira su senza fatica alcuna poi accosta il suo letto al mio ecco i letti vicini le due mani che si tengono quanto siamo brutti quando morimo vedo il suo profilo stagliarsi nel semibuio della stanza perso dietro chissà quale pensiero forse è l'incubo che lo ha svegliato do una stretta alla sua mano lo riporto qui accanto a me mo dormimo però Giorgio si gira verso di me malgrado il buio riesco a vedergli il sorriso buonanotte Danie grazie a tutti